Eccoci qua amici a parlare di questo coleottero che spesso noi ritroviamo sui nostri fiori e non sappiamo perché, cosa fa, e se fa danno o non fa danno, innanzitutto è un coleottero che viene attirato dal colore bianco dei fiori, qui siamo di fronte ad un fiore di mora lampone, ma lo ritroviamo sui nostri fiori degli agrumi, sui fiori del melo, del cotone e così via, e in questo caso stiamo parlando dell'oxitirea funesta, la riconosciamo dall'altra sorellina, cioè non è proprio una sorella, comunque gli somiglia molto, che è la tropinota irta, questa qui l'oxitirea funesta, la riconosciamo perché ha pochi peli e ha molte macchie bianche, mentre la tropinota irta ha molte più peli e meno macchie bianche, detto questo comunque sono degli insetti effettivamente impollinatori, lo stiamo vedendo qua, sta raccogliendo il polline dai fiori, però nel farlo va anche a rodere il fiore, le parti del fiore, quindi crea un danno, perché nel fare questo suo prelievo del polline va anche a rovinare il fiore. Generalmente il danno che va a fare non è così grande, perché ce ne sono veramente poche, quindi la lotta biologica non è mai effettuata, però quando noi ne troviamo veramente parecchie possiamo usare dei piccoli stratagemmi, sappiamo che lei va ad essere attirata dai fiori bianchi e quindi possiamo mettere qualcosa di bianco che la attira, io ad esempio utilizzo questo stratagemma qua, prendo dei cucchiai, lì appendo ci faccio un forellino, sono bianchi e qui nella parte interna, in modo che quando si muove comunque non vado a imbrattare niente, ci metto un po' di colla, un po' di vischio, quindi lei viene attratta, si imbratterà e qui rimarrà. Possiamo fare la stessa operazione con delle strisce di carta, possiamo fare delle operazioni con i piattini di plastica. Qui siamo di fronte ad un mandarancio e come vedete eccola qua, attaccano chiaramente qualsiasi fiore bianco loro vedono, la generazione degli adulti è da aprile diciamo in poi, aprile maggio, quando appunto ci sono i fiori aperti, quando ce ne sono veramente poche come in questo caso state attenti perché per andarla a levare se non fate veloci, loro sono ottimi volatori quindi se ne vanno via, le prelevate a mano e le allontanate dal vostro campo, così quando la raccogliete mi raccomando movimenti veloci perché lei è un'ottima volatrice, quindi se ce ne sono veramente poche la potete raccogliere a mano così non punge, non fa nulla e la allontanate dal vostro campo, avete visto che velocità. Vi saluto ragazzi ci vediamo al prossimo video, un abbraccio a tutti da Pier Giorgio.